buongiorno a tutti rapier giovanni salimbeni e benvenuti nel mio canale youtube oggi vi parlerò di un prodotto che ho avuto il piacere di testare a fondo si tratta del termtech ares 650 2.0 un cannocchiale termico al top della gamma che costa 3.760 euro e che mi ha particolarmente piaciuto prima di entrare nel vivo della recensione vi ricordo che se volete approfondire tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore e vedere l'unboxing con tutti gli accessori inclusi trovate un video dedicato qui sul canale e in più un articolo approfondito sul sito termicennotturni.it tutti i riferimenti sono sotto in descrizione e il video lo metterò nei suggerimenti alla fine di questo quindi non dimenticate di darvi un'occhiata se vi interessa come vedete ho montato il cannocchiale qui per la prova al poligono sulla carabina savage high country 1100 usando anelli di montaggio forniti di serie grazie ovviamente alla chiave dinamometrica per il montaggio se si eccettua la parte con il sistema telemetrico integrato questo cannocchiale termico della terpeg presenta un design abbastanza classico il corpo tubolare è resistente ed è rifinito con un'anodizzazione nera che lo protegge da graffi e da eventuali urti accidentali con un peso di circa 900 grammi il dispositivo si presenta ben bilanciato e non appesantisce troppo l'arma mantenendo anche un buon comfort ergonomico durante l'utilizzo prolungato poi per risparmiare un po di peso potete anche utilizzare la batteria integrata senza utilizzare quella che si può aggiungere successivamente l'area 650l è stato progettato per resistere le condizioni più difficili infatti ha una protezione ip67 che lo rende quindi impermeabile e resistente alla polvere inoltre può operare in un ampio intervallo di temperature comprese tra meno 20 e più 55 gradi e questo lo rende perfetto quindi per ogni tipo di condizione climatica ho potuto testare personalmente le sue qualità soltanto sino a meno due gradi essendo ancora novembre vi posso dire che comunque anche a queste temperature oggi siamo a 5 gradi e condizioni atmosferiche difficili il dispositivo non si è mai bloccato la messa a fuoco del cannocchiale poi è molto precisa grazie a una manopola metallica robusta che permette una regolazione molto fluida inoltre la distanza minima di messa a fuoco e di soli 3,4 metri in termine invece di prestazioni ottiche il termtech rs 150l 2.0 è dotato di un obiettivo in germania da 50 mm con un'apertura pari f1 che offre quindi un'ottima capacità di raccolta della luce è stato utilizzato un sensore termico di ultima generazione da 640 x 512 pixel che ha un ntd inferiore 18 milichelvi poi abbiamo un display amoled da 1024 x 768 pixel che restituisce nell'uso pratico delle immagini nitide e ben definite anche nelle situazioni di forte luce come ad esempio oggi qui al poligono l'ingrandimento ottico nativo è di 2,8 per ma può essere aumentato con lo zoom digitale che può anche essere impostato su zoom rapido l'angolo di visione invece di 15,4 x 12,3 metri a 100 metri offre quindi un campo di vista abbastanza ampio ideale per monitorare anche delle aree abbastanza vaste la distanza massima di rilevazione di un soggetto caldo con il combo obiettivo da 50 e questo sensore di 2600 metri vi devo puoi dire che anche le immagini così a livello standard quindi con le impostazioni appena lo accendete risultano molto nitide a un contrasto decisamente elevato il sistema di reticoli è un altro punto di forza di questo cannocchiale sono infatti presenti otto reticoli che possono essere personalizzati con varie impostazioni ad esempio colore luminosità così ad adattarsi a diverse situazioni di visibilità inoltre è possibile fare vari salvataggi degli azzeramenti dopo lo vedremo la memoria interna invece da 64 gb consente di registrare foto e video direttamente sul dispositivo attraverso l'applicazione quindi un'ottima funzionalità per chi desidera documentare le proprie osservazioni o catturare momenti particolari uno degli aspetti che mi ha più colpito è l'autonomia della batteria che arriva fino a 18 ore di utilizzo continuo dichiarato infatti per arrivare a questa autonomia è possibile inserire un'altra batteria esterna per estendere quindi la durata quanto dichiarato l'ares 150 l 2.0 si distingue anche per una serie di funzionalità avanzate che migliorano ulteriormente l'esperienza d'uso l'avvio è rapido e permette infatti al cannocchiale di essere operativo in soli tre secondi ed è estremamente utile in situazioni di emergenza o quando si ha bisogno proprio di fare una rapida osservazione il sistema di menu è stato ottimizzato per essere molto semplice e rapido da utilizzare come potete vedere in questa clip ha una pulsantiera ergonomica che è stata integrata vicino all'oculare e una ghiera per la gestione delle impostazioni il menu inoltre disponibile anche in lingua italiana e questo rende la navigazione ancora più intuitiva una delle funzioni tra le varie che mi è piaciuta molto è la modalità picture in picture che consente di ingrandire un'area del 10 per cento del display per osservare con maggiore dettaglio una parte della scena in questo modo non perderete la visione complessiva inoltre il sistema di regolazione del contrasto della luminosità è rapidissimo e molto preciso e avviene immediatamente attraverso la torretta sul lato sinistro inoltre il sistema di intelligenza artificiale integrato è in grado di adattare automaticamente l'immagine in base alle condizioni ambientali sia per quanto riguarda l'autocalibrazione sia per quanto riguarda la scelta della luminosità e del contrasto come vedete sono presenti anche tre torrette chiamiamole pseudo torrette in quanto non hanno funzioni meccaniche nella torretta verticale è possibile come vi ho anticipato inserire la batteria nella torretta di destra sotto il tappo è presente la porta usb mentre la torretta di sinistra è un pulsante menu ghiera che svolge varie funzioni tra il menu e la navigazione comunque se volete saperne di più vi invito a visitare e a leggere l'articolo molto completo su termicineuturni.it per quanto riguarda l'azzeramento il cannocchiale come vi ho anticipato offre diverse opzioni per adattarsi quindi a differenze impostazioni dopo aver montato infatti l'ares 150 sulla carabina ho seguito l'azzeramento a 100 metri il dispositivo comunque rapidamente permette di salvare i dati degli azzeramenti su profili diversi quindi si fa il classico colpo a 100 metri c'è la funzione di frizz che può congelare l'immagine quindi dopo potete operare anche spostando la carabina a questo punto dovete con la pulsantiera spostare l'asse x e l'asse y e infine dovete salvare allora ragazzi prova di azzeramento adesso a 100 metri in realtà a casa ieri ho cercato di fare un pre azzeramento ovviamente senza sparare mirando il bersaglio e vedendo che traguardava nella canna vi devo dire che adesso sono all'ingrandimento quasi pari al massimo e la nitidezza è ottima vedo sia il bersaglio quello cartaceo che il gong e anche se non fa caldo comunque il gong è abbastanza illuminato è molto comodo in questo contesto rapido la ghiera della torretta sinistra perché posso regolare rapidamente la luminosità io direi che non ci sono problemi a mantenere questa paletta colore è andato in basso a destra quindi adesso sono su reticolo devo schiacciare il comando frizz per frizzare l'immagine e a questo punto posso operare do un rapido spostamento sull'asse x sull'asse y confermo adesso dovrebbe essere tutto pronto proviamo guardate il gong è ben visibile oltretutto è venuto via l'adesivo quindi vedo la macchia scura dell'adesivo e anche senza bersaglio termico riesco a orientarmi direi che la prova di azzeramento è stata molto rapida come avete visto il cannocchiale mi sembra decisamente preciso oltretutto anche al poligono di giorno avendo impostato la luminosità del display al massimo si vede molto bene sembra quasi un cannocchiale night in date a colore di grigio quindi è finita un po' l'epoca di usare le patch termiche di giorno secondo me oltre a ciò è possibile anche inserire parametri basici come l'altezza del cannocchiale della canna la velocità del vento il peso del proiettile per ottimizzare quindi le distanze di tiro e migliorare la precisione del tiro anche a lunga distanza seppur sia un termico ho testato comunque l'arese 150 diverse situazioni sia durante il giorno quindi qui al poligono ma anche di notte sganciandolo utilizzandolo su un treppiere come se fosse un cannocchiale da osservazione in tutte queste varie prove che ho effettuato il cannocchiale ha dimostrato di avere una qualità dell'immagine molto soddisfacente con un alto livello di dettaglio e di contrasto in particolare vi ripeto l'intelligenza artificiale ha ottimizzato automaticamente le immagini in base alla luce ambientale quando ad esempio soltanto un paio di anni fa con altri sistemi bisognava smanettare notevolmente per trovare poi le giuste impostazioni poi ho anche testato il telemetro che ha fornito delle stime precise a patto ovviamente di maneggiarlo con attenzione e la funzione RAV ossia Recoil Activated Video che consente di registrare automaticamente i momenti precedenti all'atto pratico lui continua a registrare in automatico nel buffer della scheda di memoria nel momento in cui voi sparate lui vi ripropone i secondi precedenti come di consueto compio anche una reale analisi sul campo per verificare le differenze morfologiche tra una cervo e un capriolo a lunga distanza questo perché è un conto esaminare i meri dettagli tecnici sui Depliant un conto e poi verificare sul campo in questo caso posso confermare che grazie al combo del sensore di ultima generazione e l'obiettivo da 50 mm comunque un software con un algoritmo veramente ottimale sono stato in grado di ottenere delle immagini che ritengo sicure ed efficaci anche a distanze superiori a 250 metri vediamo adesso in sintesi di parlare dei pregi e dei difetti tra i pregi vi potrei citare senz'altro il sensore termico di ultima generazione con un bel valore NTD inferiore ai 18 mK utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare la qualità dell'immagine eccellente durata della batteria che è dichiarata in 18 ore un avvio rapidissimo circa 3-4 secondi più leggero del modello precedente il telemetro comunque è funzionale ed è ancora più compatto rispetto ai modelli precedenti stabilità e precisione nelle funzioni dell'app che oltretutto non si sono mai bloccate palette colori varie e sufficienti per un uso molto personalizzato insomma è un cannocchiale che si può personalizzare veramente in varie modalità in base alle vostre esigenze tra i difetti ragazzi onestamente non saprei cosa citare nel senso che certamente il prezzo non è un prodotto da entry level ma ritengo che il suo rapporto qualità prezzo sia decisamente favorevole in definitiva ritengo che il cannocchiale termico are 650 l 2.0 con telemetro integrato si presenta come una scelta altamente performante e molto bilanciata grazie al sensore termico di ultima generazione all'intelligenza artificiale integrata per il miglioramento delle immagini e soprattutto alla sua durata eccezionale secondo me della batteria è in grado di offrire delle prestazioni costanti e affidabili anche nelle condizioni atmosferiche più difficili il design poi è compatto leggero e unito alla stabilità e alla precisione delle funzioni dell'applicazione termtech outdoor ne fa comunque un compagno versatile e preciso io per oggi termino qui spero che questo breve video vi sia piaciuto vi ricordo che è disponibile il video con l'unboxing e tutte le caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore vorrei ringraziare Thomas Bao manager della termtech per avere fornito l'esemplare oggetto di questo test che era in mano l'ambassador Davide Calabrese che se ne è privato proprio per consentirmi di provarlo qui sul campo io ringrazio anche tutti voi che mi seguite quotidianamente ci vediamo come sempre su questo canale vi aspetto su termicinotturni.it e su tutti i miei social vi ricordo ragazzi ancora una volta se volete di iscrivervi al mio canale perché il 90% delle persone che vedono i miei video non sono iscritti per voi è questione di un istante invece per me è molto importante avere sempre più iscritti nel canale per consentirmi di prepararvi a lavorare a nuove video recensioni un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni ci vediamo la prossima puntata ciao ragazzi